Buona domenica e buona Pasqua dalla redazione del TG60, apriamo con una notizia che riguarda la diocesi di Pistoia, importanti passi avanti per la costituzione delle CERS, le comunità energetiche rinnovabili solidali. Nei giorni scorsi i delegati dell'Ufficio della Pastorale Sociale del Lavoro hanno incontrato i dirigenti del Consorzio Fratello Sole per fare il punto sull'atteso completamento dell'iter normativo che regolerà la progettazione e costituzione delle comunità energetiche. Il Consorzio Fratello Sole è la prima e unica società consortile in Europa non a scopo di lucro che si occupa di sostenibilità aperta esclusivamente agli enti del terzo settore italiano. Andiamo a leggere adesso i titoli del nostro telegiornale. La festa di oggi è una festa di grande speranza, queste le parole di Monsignor Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia, durante la messa di Pasqua non solo per i credenti e per i cristiani ma per tutta l'umanità. Arriva anche a Pistoia la Tuscany Cocktail Week, l'evento dedicato al mondo della miscelazione. Dal 10 al 16 aprile saranno ben 85 cocktail bar toscani coinvolti nella manifestazione, 4 quelli pistoiesi. La sconfitta a Cremona nella seconda partita della fase orologio non deve abbattere la Giorgio Tessigroup, l'atteso ritorno di Del Chiaro sarà la chiave per completare l'organico e prepararsi per i playoff. Come abbiamo sentito nei titoli, la festa di oggi è una festa di grande speranza, queste le parole di Monsignor Fausto Tardelli. Il passaggio dalla porta santa del vescovo Monsignor Fausto Tardelli è seguito dai fedeli, che hanno assistito alla messa di Pasqua nella cattedrale di San Zeno a Pistoia. Che cosa cerca ogni uomo e donna di questa terra? Ha sottolineato Monsignor Tardelli nell'Omelia. Alla domanda non è poi così difficile rispondere se ci si guarda dentro. Cerchiamo felicità, stare bene, in salute, avere a disposizione dei beni per una vita dignitosa e libera. Desideriamo libertà e pace, ma soprattutto rispetto e comprensione. Tutti noi cerchiamo una vita piena, armoniosa, piena di amore, donato e ricevuto, ma alla fine tutto si infrange nella morte che viene a spezzare ogni sogno, ogni legame, ogni prospettiva. Ma di fronte a tutto questo si è escogitata una via d'uscita, tutt'umana. La troviamo già ben espressa da un poeta antico, Orazio, con il carpe diem, afferra l'attimo che ti ha dato, ripresa poi da Lorenzo il Magnifico, quando è bella giovinezza che ti fugge tuttavia. Chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Questa soluzione è la via dell'accontentarsi. La via rinunciataria è quella di farsi una corazza spessa, per cui ogni cosa ci passa sopra. Appare anche una soluzione nobile, continua Tardelli, perché prende la vita così com'è, accettando che non ci sia un senso per la nostra esistenza. Il messaggio cristiano però è un altro, ha sottolineato Tardelli, è quello che oggi annunciamo al mondo. Cristo è risorto dalla morte. L'annuncio della Pasqua cristiana è tuttora chiuso dentro a questo fatto reale, affidato esclusivamente alla fede. Noi cristiani crediamo in qualcosa che sfida la stessa ragione e che può sembrare assurda, qualcosa che va contro la nostra stessa evidenza quotidiana, ma è qualcosa che dà un senso a tutta la nostra esistenza, la resurrezione. Andiamo a Serravalle Pistoessi, dove è stata inaugurata una targa per l'intitolazione a San Lodovico della cappella annessa alla chiesa della Pieve di Santo Stefano. Lo scorso anno Sua Eccellenza il Vescovo di Pistoia, Monsignor Fausto Tardelli, ha codedicato a San Lodovico questa cappella del Santissimo Sacramento che è annessa alla Pieve di Santo Stefano in Serravalle, visto che non c'era nessuna chiesa dedicata a San Lodovico e al contempo ce ne ha affidato la custodia. La scopertura della targa di oggi è solo appunto il primo passo perché poi seguiranno i restauri sia della facciata esterna sia dell'interno della cappella. Con una targa scolpita nel marmo la comunità di Serravalle Pistoiesi ha celebrato l'intitolazione al patrono del paese San Lodovico della cappella annessa alla Pieve di Santo Stefano e l'affidamento della manutenzione di questo luogo all'ordine di Parte Guelfa. Parte Guelfa è un'antica istituzione nata nel 1266 come cavalleria Guelfa nel periodo degli scontri fra Guelfi e Ghibellini. Poi nel 1549 Cosimo Primo dei Medici modificò le funzioni da militari a di controllo del territorio quindi anche oggi ci occupiamo prevalentemente di salvaguardia ambientale oltre che di tutela delle tradizioni storiche. È una cosa diciamo importante perché c'è anche a questo punto dell'anno scorso una struttura che è intitolata a San Lodovico. San Lodovico in questo paese è molto 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 amato dagli abitanti tant'è vero che fino a poco tempo fa chiunque veniva battezzato in questa chiesa aveva come secondo o terzo nome Lodovico o Lodovica. Torniamo a Pistoia. Tante volte gli ospiti di Vico Faro sono stati oggetti di critiche sotto l'occhio del ciclone e questa volta invece è un ragazzo del Gambia che prova a parlare con l'arte e a superare barriere e ideologie. L'arte è contenta dentro, fallisce dentro. Anzi racconta qualcosa di importante per gli altri. In occasione delle benedizioni alle famiglie della parrocchia di Vico Faro Don Massimo Biancalani porterà in dono in ciascuna casa una copia dell'opera Eceomo di Donatello da Messina realizzata dall'artista Gambiano Ebrima Danso ospite della comunità di accoglienza migranti di Vico Faro. Quindi vuole essere un segno di incontro, di conciliazione e nel stesso tempo anche appunto vuole parlare, vuole anche cercare un po' di rompere gli uomini comuni, no? I ragazzi sono tanti, hanno tante caratteristiche, ragazzi problematici alcuni, ma insomma ci sono anche tanti che hanno delle risorse e noi cerchiamo anche di valorizzare i limiti del possibile. Ebrima, 25 anni, ha già esposto alcune sue opere in Gambia, dove era anche insegnante di disegno ed in Italia. Anche ora sto facendo qualche lavoro, ho già fatto tanti mostri. Ebrima è partito dal piccolo stato africano nel 2016, imboccando la rotta del deserto, che dal Senegal passa per il Mali per poi raggiungere la Libia. Un viaggio è durato circa un anno che è culminato con la traversata via mare con uno scafo, intercettato a largo del Mediterraneo dalla marina militare italiana, che ha poi traghettato i migranti verso le coste della Calabria. Sono venuto qua in Italia nel 2017, in Calabria, sono in Calabria, in campo a Collenza e poi io ho andato a Puglia per lavori. Sono arrivato in Vicofaro l'anno scorso, verso ottobre. Massimo ha detto bravo, ti aiuto a comprare i materiali e mi racconta la tua storia, mi lavoro la tua storia, dal Gambia fino all'Italia. Grazie a un progetto finanziato dalla CEA inoltre, Ebrima Danso realizzerà una mostra di 15 tavole sul suo viaggio dal Gambia verso l'Italia. 15 situazioni dal cammino che i ragazzi migranti fanno dall'Africa fino qui in Europa, quindi l'origine, poi il deserto, la Libia, le carceri, il mare, fino all'Ampedusa. E da domani al 16 aprile quattro locali Pistoe si prenderanno parte alla Tuscany Cocktail Week. Nel servizio di Simone Gai andiamo a vedere di cosa si tratta. Arriva anche a Pistoe la Tuscany Cocktail Week, l'evento dedicato al mondo della miscelazione. Dal 10 al 16 aprile saranno ben 85 cocktail bar toscani coinvolti nella manifestazione. Il mondo mixologi negli ultimi anni sta interpretando un ruolo da protagonista sul panorama enogastronomico italiano. Non si beve più il solito spritz ma ci si spinge oltre con i bartender che sono diventati ormai sempre più dei guru del bere bene e consapevoli, con accostamenti che spesso e volentieri vedono i cocktail abbinati a piatti di ogni tipo oppure creati con prodotti a chilometro zero nel rispetto della sostenibilità e della tradizione. A Pistoia saranno quattro i locali coinvolti, il Voronoi, il Lococomodo, il Vitium e la Fortezza 54, dove sarà possibile degustare tutta la creatività dei bartender locali. Ogni cocktail bar presenta una cocktail list in cui si rappresenta un signature cocktail, che è il cocktail più importante che rappresenta il cocktail bar in quella settimana, un cocktail dedicato ai prodotti italiani, non riesco a bere italiano, quindi importanza al made in Italy, e un cocktail invece dedicato alla sostenibilità. Quindi durante tutta la settimana le persone possono decidere liberamente in quale cocktail bar recarsi e provare i cocktail creati per l'occasione. Noi come rappresentazione di Pistoia facciamo una shift di quattro locali insieme, quindi organizziamo una serata dove i quattro locali adiviscano una serata per il bar, dalla musica, dalle guest del bar, dai fotografi e divertimento per la gente. Pistoia ha qualche anno in ritardo, ma comunque stiamo entrati frequentemente nella scena, io ormai 20 anni faccio il barman, è 10 anni che sono a Pistoia quasi, e con grande fatica e grande professionismo da parte dei miei colleghi siamo entrati molto molto forte nella scena italiana. A Firenze si è chiuso il Corea Florence Film Festival, uno dei più importanti festival a livello europeo sul cinema coreano, lo ha chiuso con una masterclass il regista premio Oscar, Bong Joon-ho. Si è chiusa la ventunesima edizione del Florence Corea Film Festival con un ottimo successo di pubblico. Ospite speciale della manifestazione è stato senza dubbio il regista Bong Joon-ho, uno dei cineasti internazionali più osannati degli ultimi anni, che nel 2020 con il film Parasite ha vinto la palma d'oro al festival di Cannes, ma soprattutto l'Oscar come miglior film, miglior regista e miglior sceneggiatura originale. Joon-ho ha tenuto una masterclass al cinema La Compagnia da sold out, alla quale hanno presenziato anche il presidente della regione toscana Eugenio Gianni, che ha consegnato il Pegaso al regista, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo ed il sindaco di Firenze D'Arenardella, che ha consegnato una pergamena della città. Due ore dove Joon-ho ha raccontato e si è raccontato, parlando anche del cinema italiano, dei suoi due film preferiti, Ladri di biciclette e Psyco, e di alcune scene di Parasite legate a Gianni Morandi. Entrambi i film li ho visti in un'età molto giovane, l'avevo visti prima dei dieci anni, in particolare Ladri di biciclette l'avevo vista a dieci anni, mentre Psyco a nove. A dieci anni, proprio nell'epoca in cui guardavo Ladri di biciclette, avevo appena avuto la mia prima bicicletta dai miei genitori, dopo aver insistito per un lunghissimo tempo, e dopo appena un mese mi è stata albata purtroppo. Invece il film Psyco per me è stato scioccante direi, perché l'ho visto senza sapere nulla, avevo dieci anni per l'appunto, e non aveva questa storia, questo flusso della storia, che non si poteva sapere dove andasse a parare, e poi anche a livello visuale, visivo, era davvero scioccante, quindi a quell'età tenera mi è rimasto questo shock, che si è sedimentato ed è rimasto finora. Poi scelte la posta di Gianni Morandi? E' una musica così romantica, ma l'ho messa in una scena così violenta. Passiamo anche allo sport, purtroppo la Georgia's Tessy Group è stata sconfitta nella partita di Cremona, però è sicuramente un avvicinamento importante play-off. Due sconfitte non devono demoralizzare la Georgia's Tessy Group nel suo avvicinamento a play-off. Se è vero che le due partite contro Cantù e Cremona hanno dimostrato che per i bianco-rossi manca ancora uno step per arrivare a giocarsi le proprie chance con le più forti della Serie A2, è anche vero che le due partite hanno visto la squadra di coach Brienza lottarsela punto a punto fino alla fine, mancando inesperienza e killer instinct. L'aspetto positivo, però, è che a breve rientrerà Angelo Delchiaro, che permetterà di avere maggiori rotazioni, maggiori soluzioni in attacco e, a magro, di respirare durante la partita con Gabriele Benetti che potrà finalmente giocare nel suo ruolo di quattro. La partita di Cremona ha mostrato una formazione tosta, che non molla mai, che sa reagire alle difficoltà, ma anche una squadra ancora non attrezzata per competere del tutto con la formazione di alto lignaggio della Lega. Basti considerare che nelle sette sfide disputate con le formazioni più forti, Cento, Forlì, Cantù e Cremona, Pistoia ne esce con una vittoria e sei sconfitte, compresa quella di Coppa Italia proprio a Cremona. Domenica al Palacarrara arriva Treviglio, sconfitta in casa da Forlì nell'ultima gara e quindi non imbattibile, nonostante il roster lunghissimo e di grande qualità. Con Cantù, che dominando Cento, ha dimostrato di essere forse la più accreditata per uno dei due posti promozione. Si parte come play-off, fortunatamente il calendario non ci aveva mai messo di fronte alle migliori squadre una dietro l'altra. Come quando a Verona eravamo 0-2, il Paese non è Pistoia, abbiamo fatto 2-2. Adesso ovviamente parlo dell'anno scorso. Qui si riparte lavorando, sapendo che, io l'ho sempre detto, non rischiamo serenamente, no, serenamente no, però rischiamo anche un 0-6, però questa cosa qui non ci deve preoccupare minimamente, ma dobbiamo continuare il nostro percorso e avere il focus poi per essere pronti Io vi lascio ai programmi della serata. Fra poco una parte della processione della Festa Bella di Casal Guidi e poi Ora Verde, augurandovi nuovamente buona domenica e buona Pasqua e naturalmente buon lunedì. Vi auguro anche una buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.